Sì, allora, questo laboratorio, ma però, è un laboratorio che con il studio associato con progettisti per la comunicazione, abbiamo attivato perché, occupandoci comunque di rappresentazione del territorio, spesso con l'ambito delle aree naturali, del turismo, più che altro del turismo responsabile e esperienziale, però facendolo abbiamo colto che la rappresentazione del territorio ha tutta una serie di livelli che non sono solo quelli tecnici e tecnologici, ma passano anche per la semantica, la cultura, la storia e tante altre questioni che arricchiscono l'esperienza della rappresentazione. Però, contemporaneamente, anche andando a guardare i percorsi personali di studio, nessuno di questi era tale da comprendere tutte quante, tutte insieme, queste caratteristiche, questi sfondi. Quindi abbiamo pensato di poter cogliere una straordinaria opportunità che l'Arti, la Regione Puglia, di recente, da questo secondo anno, stanno offrendo. Per cui, come dire, ci siamo, fatta questa premessa, ci siamo cuciti addosso, un percorso formativo che invece riabbracciasse tutte queste diverse competenze, in qualche modo anche tutte queste diverse curiosità che tutti quanti noi avevamo rispetto a questo tema. Curiosità che poi, come dire, man mano che lavoravamo alla costruzione del calendario del laboratorio, si sono anche amplificate, perché già era questa l'intuizione della base, ma poi l'abbiamo confermata nel fatto che, andando a esplorare il territorio, a questo punto delle mappe, ogni passo portava a avere voglia di farne altri dieci. E niente, questo è un po' il senso di questo laboratorio, in questo modo anche i luoghi, i luoghi dove lo svolgiamo, questa masseria Logliazzo, che fra l'altro poi ringraziamo perché anche un po' nello spirito dell'iniziativa, dei laboratori, hanno messo a disposizione gratuitamente la struttura e si trova in un posto che a sua volta induce a curiosità, a esplorazioni, a conoscenze, ma in qualche modo anche a bellezza, perché poi il motore principale che fa da sfondo all'attività professionale di questo gruppo proponente, ma anche poi all'attività dei singoli, è proprio quello di accorgersi della bellezza del territorio che ci ospita e in qualche modo provare a immaginare un percorso di rappresentazione che la possa trasferire in maniera quanto più puntuale, autentica, senza perderne nulla. Ancora una volta ci accorgevamo che questo trasferimento non può essere limitato a conoscenze di tipo meramente tecnico e tecnologico, serviva qualcosa di più. E quindi anche su questo, insomma, il panorama di docenti che abbiamo voluto invitare rappresenta credo bene questo spettro ampio e quindi già da oggi con il professor Maragliano cominciamo a approcciare in maniera obliqua il tema, però accorgendoci che poi ci entreremo già nel merito e anche gli altri, insomma, avremo un mix di grandi competenze legate proprio a GPS, insomma, alle strumentazioni, però anche deviazioni sulla geografia antica piuttosto che lo storytelling, piuttosto che tante altre sfaccettature. Niente, io credo che poi ci sia poco altro da aggiungere, se no magari citare gli altri partner del laboratorio che quindi sono a Taranto di Olers e l'altra associazione di Taranto, Taranto Ribellati, poi c'è Pugnano la ciclofficina e bici integrazione e abbiamo anche Innovazio Apulia e lo Giazzo, sì, vabbè, lo Giazzo c'è un'associazione di riferimento e progetti per comunicare, quindi sì, ci siamo tutti. Insomma, un bel gruppetto, anche in questo caso, come dire, il panorama dei partner risponde ancora una volta a questo caridoscopio, insomma, di esperienze diverse. Credo che non ci sia altro da aggiungere e a questo punto c'è Domenico che magari dice qualcosa in più sullo strumento che noi stiamo sfruttando. Sì, buongiorno a tutti, io sono Domenico Centrone, faccio parte dello staff di Laboratori dal Basso che per l'appunto questa iniziativa della Regione Puglia e in particolare dell'Arti, dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione e Bollenti Spiriti, che è il programma regionale per le politiche giovanili, che sono per l'appunto i due enti promotori di questa iniziativa che si chiama per l'appunto Laboratori dal Basso. Brevemente due parole su Laboratori dal Basso e un invito anche in conclusione. Le due parole su Laboratori dal Basso per spiegarvi cos'è l'iniziativa. In pratica, diciamo, l'essenza di questa iniziativa sta per l'appunto nel suo nome stesso. Quindi sono dei laboratori creati, progettati dal Basso. Quindi sono le giovani realtà pugliesi, associazioni o microimprese, a creare dei veri e propri percorsi di apprendimento per meglio fare impresa, per meglio fare quello che già stanno facendo. E lo fanno a partire da quelli che sono i propri bisogni di apprendimento. Quindi è un'iniziativa che ha come obiettivo quello di rafforzare le capacità e diciamo le competenze per meglio fare impresa ed è rivolta per l'appunto alle giovani associazioni e giovani microimprese. L'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni. I laboratori che sono per l'appunto percorsi strutturati che possono durare fino a cento ore, quindi cento ore di formazione, così come è questo, è un laboratorio. Poi ci sono le testimonianze, sono degli incontri brevi in cui per l'appunto si ha la possibilità di ospitare relatori che abbiano fatto qualcosa di rilevante nel campo dell'innovazione e dell'imprenditoria, ospitarli qui in Puglia, quindi a raccontare la propria esperienza. E la terza iniziativa è un'iniziativa di mentoring in cui per l'appunto si ha la possibilità di essere affiancati, quindi le giovani realtà pugliesi hanno la possibilità di essere affiancati da un mentore, da una persona senior che per l'appunto li possa accompagnare e possa mettere a loro disposizione la propria esperienza, la propria, diciamo, la propria rete di relazione, quindi le proprie competenze. Tutte e tre le iniziative sono attualmente attive, in particolare i laboratori abbiamo, diciamo, la prima deadline si è chiusa con più di 70 candidature, più di 40 laboratori sono attualmente in fase di realizzazione, quindi oltre a questo c'è un'ampia scelta di laboratori su varie tematiche, quindi l'invito è a consultare sicuramente il nostro sito laboratoriodalbasso.it e a, qualora vogliate, a pensare anche una vostra proposta di laboratorio, un vostro percorso di apprendimento, poiché, come vi ho detto, tutte e tre le iniziative, quindi i laboratori in mentoring e testimonianze sono attualmente attivi e lo saranno fino a giugno, quindi avete tempo fino a fine giugno, avete tempo fino a fine giugno per candidarvi e proporre la vostra, diciamo, il vostro percorso di apprendimento. Io mi fermo qui, quindi se avete delle domande potete, diciamo, chiedermi un consulto, per qualche, diciamo, per un'oretta sarò qui, dopodiché vi auguro buon laboratorio, ringrazio naturalmente i proponenti e i partner che sono i promotori e gli artefici di questo laboratorio, i docenti per essere venuti e nulla, buon percorso a tutti. Allora, non so, fai tu un attimo, due secondi presentazioni. Io, veramente lascerei subito il spazio al professore, per partire, sì, no, darei subito la parola al professore Maragliano perché siamo già partiti con qualche ostacolo. Penso che sono, io sono un microfonato, quindi se funziona, se non ci sono problemi, andrei. Intanto, grazie, l'invito, il posto è bellissimo, l'iniziativa è molto, molto interessante. Certo, in questo momento ci manca la connessione, quindi diventa un po' un problema riuscire a operare senza poter far vedere le cose. Però, insomma, confidiamo in una rapida soluzione del problema. Nel frattempo provo a presentare gli aspetti, diciamo, più di principio e collegati al tema che mi è stato proposto. Intanto mi sembra estremamente interessante la questione che un po' tutti stiamo cercando di affrontare anche con questa iniziativa. Registro però subito una questione, perché credo che ci misureremo poi con questa questione. E cioè il fatto che c'è, almeno sulla base dell'esperienza che ho fin qui maturato nel settore educativo, sociale e tecnologico, uno squilibrio tra una zona di diffusione e una zona invece di meno scarto di diffusione di competenze d'uso, di competenze socioculturali. Cioè, da una parte c'è chi sa tutto delle possibilità di far funzionare un determinato marchigegno, dall'altra parte si registra una difficoltà di misurarsi con le concettualizzazioni, con gli schemi culturali, le pratiche di conoscenza che sono proprie appunto del nuovo ambiente tecnologico. Possibilmente se lo metteremo. Guardi, lo mettiamo così in modo tale che lo mettiamo fuori, io non ho problemi. Dicevo, la questione di fondo, anche per il tema che stiamo affrontando, è trovare un elemento di equilibrio tra una competenza di tipo tecnico e una competenza di tipo socioculturale. E il punto di equilibrio è rappresentato dalla concettualizzazione, cioè una concettualizzazione che tenga conto di alcune proprietà di tipo tecnico, tecnologico, ma anche di alcune proprietà di tipo socioculturale. In caso contrario noi abbiamo il rischio di trovarci di fronte a pratiche di tipo corrette dal punto di vista tecnico, cioè funzionali e funzionanti, ma vuote dal punto di vista culturale. Oppure pratiche che, pur essendo tecnologicamente avanzate, però includono dei contenuti, delle modalità di contenuto, dei comportamenti culturali e sociali che appartengono però ad un altro mondo, che appartengono ad una tecnologia precedente. Il tema delle mappe è particolarmente significativo da questo punto di vista, cioè perché per molti la mappa è vissuta come un qualche cosa di statico, perché ovviamente, ma anche per tutti noi, insomma, anche per i più giovani, cioè il primo incontro con le mappe è l'incontro con una dimensione di rappresentazione del mondo di tipo statico. Cioè la rappresentazione scolastica della mappa, cioè il primo impatto col sapere geografico che viene all'interno della scuola è con qualche cosa di statico, cioè con una rappresentazione che è una sorta di normalizzazione, cioè una rappresentazione delle dinamiche statiche del potere. Cioè fin lì arriva la regione, fin lì arriva la nazione, fin lì arriva il continente, lì inizia l'altro continente, là c'è l'altro colore, là c'è l'altro spazio. Cioè una sorta di deliberazione del sistema di potere. E quindi il sistema di potere è vissuto come qualcosa di statico, è chiaro, poi è sempre soggetto a revisione, però di fatto nel momento stesso in cui viene certificato dalla mappa, a quel punto è definito che è così. è una mappa che è più forte della realtà, cioè si sostituisce la realtà, perché è chiaro che se poi io vado sul territorio non è che vedo il confine tra la Puglia e la Basilicata, non lo vedo e non lo... Cioè posso trovare dei segnali che mi rimandano ad una mappa, ma non ad un dato territoriale. Però, diciamo, questo è l'aspetto concettuale di fondo, cioè noi abbiamo iscritto dentro di noi questa rappresentazione della mappa come qualcosa che funge da certificazione di una realtà, e anzi, scusate, di sostituzione alla realtà. Cioè se la realtà è il territorio, la mappa invece è una realtà ancora più reale, perché chi sta da una parte, diciamo, della zona della mappa e chi sta da un'altra parte della zona della mappa dal punto di vista, come dire, culturale e a volte anche, come dire, di comunicazione non sente nessuna differenza. Però uno è certificato a appartenere ad una realtà e l'altro è certificato a appartenere ad un'altra realtà. Ma questa realtà è soltanto dalla mappa, e del sistema di potere che la mappa certifica. Siamo d'accordo su questo. E questo è il sistema di funzionamento di tutto un periodo storico che così per convenzione chiamiamo la modernità. Quello della modernità. Dove appunto il conflitto tra i poteri e il conflitto tra le nazioni, il conflitto tra gli eserciti, il conflitto tra i popoli, porta a delle sanzioni, delle sanzioni, cioè i risultati di questi conflitti sono delle sanzioni che vengono certificate dalla mappa. Quindi la mappa è a quel punto ciò che avviene alla fine della Prima Guerra Mondiale, ciò che avviene alla fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè ciò che poi progressivamente con le guerre meno mondiali, ma lo stesso guerreggiate, avviene alla fine di ciascun conflitto, si definisce una mappa, anzi la mappa è proprio il... vive dell'ontologia della fissità, è la certificazione di ciò che è fisso. Poi sappiamo che ciò che è fisso è provvisoriamente fisso, però proprio perché viene mappato... A questo punto anche il concetto di immigrazione e migrazione e clandestinità... E' certo, è tutto costruito appunto su una logica di mappa, mappa però in quel senso là, cioè mappa nel senso appunto della certificazione formale diciamo dei... dello stato dei regimi di potere. Dello stato appunto, della dimensione statica, no, dei regimi di potere. Quindi il... diciamo con la modernità, con l'inizio della modernità nasce questa forma di appropiazione che attribuisce alla mappa un potere superiore alla realtà. Cioè la mappa è la realtà. Cioè si sostituisce in un certo senso la realtà. Cioè l'esploratore, no, che va nelle Americhe o l'esploratore che va nelle Asie o nell'Africa, che cosa fa? Si appropria del territorio tramite la forma della mappa. Cioè è un geografo di fatto, è un geografo del potere. Cioè è il... la geografia in questo senso, in quanto strumento di certificazione statica, diventa la... come dire, la longa manus, insomma, dell'esercizio del potere. E così ha funzionato il mondo e continua a funzionare, però, un mondo interno a noi. No? Cioè che è il mondo che viene costantemente riprodotto più o meno consapevolmente, più o meno consciamente anche dalla scuola e dall'università. cioè che sono i luoghi della riproduzione di un sapere statico. Non a caso nella scuola così come nell'università lo strumento pressoché esclusivo d'uso è il libro che è di nuovo uno strumento di certificazione di un sapere immobile, immobilizzato appunto dalla stampa. Cioè così lì c'è la geografia, la geografia è quella lì che c'è sul libro. No? Cioè poi casomai nel frattempo come dire le cose sono cambiate però l'idea che lo studente si fa è comunque che la geografia stabilizza. No? Cioè è un un sapere la cui funzione è quella della certificazione. La certificazione è ovviamente chi è abilitata a certificare il potere. E così si riproduce questo meccanismo. Di fatto però se siamo qui è anche perché alcuni processi hanno messo in forte discussione questo 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 meccanismo questa assunzione questa questa filosofia questa ontologia. Il mondo non da ieri sera ma da una bella fetta di tempo ha ha iniziato a cambiare e ha iniziato a cambiare proprio in relazione alle dinamiche dello spostamento dei gruppi e delle persone che hanno provocato un ridisegno come si può dire una rimappatura ecco una continua rimappatura del del mondo. Quindi un'altra forma di mappatura del mondo che è profondamente diversa da quella precedente quella precedente è organizzata nella dimensione della tavola no? Cioè io vado scopro vedo certifico faccio la mappa la tavola quella lì io geografo sono il geografo dell'imperatore e quella è la certificazione del potere dell'imperatore e quindi è statica e ha un'assunzione come dire di immortalità deve essere poi non sarà così ma comunque deve essere vissuta come una cosa assolutamente immodificabile e infatti in quanto stampata o prima in quanto disegnata in quell'unica coppia è immodificabile anche se poi nel frattempo l'imperatore è morto sono successe tantissime altre cose e quel territorio è diventato un'altra cosa però comunque sussiste ancora quella 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 mappa e nella coscienza di coloro che utilizzano quella mappa sussiste ancora l'idea insomma che c'è qualche cosa di assoluto invece con le con lo sviluppo dei trasporti quindi con l'inizio anche del trasporto delle delle merce quindi con la costruzione di reti di comunicazione sempre più dense l'idea insomma di poter intavolare il territorio cioè di tradur di trasferire la dinamica tridimensionale di un territorio che è fatto di tanti elementi quindi profondità larghezza altezza di poterlo trasferire in una dimensione bidimensionale salta salta e comincia a saltare proprio nel settore per effetto insomma dello sviluppo del settore dove poi tra l'altro il concetto di rete è venuto via via fermandosi prima ovviamente molto prima che la rete diventasse una tecnologia comunicativa cioè dov'è che comincia ad affermarsi il concetto di rete come strumento come dimensione tecnica e concettuale dei trasporti del sistema dei trasporti cioè i sistemi di trasporti per come cominciano a svilupparsi dall'ottocento in poi dalla fine settecento in poi sono un effetto oppure sono un qualche cosa che possiamo capire meglio proprio utilizzando il concetto di rete no infatti anche nel linguaggio corrente parliamo di rete di trasporti poi spesso viviamo pratichiamo i trasporti come rete ma li pensiamo invece in modo lineare però di fatto ormai diciamo dopo due secoli come dire si è compiutamente completamente affermato l'idea che il il sistema dei trasporti è organizzato secondo una dimensione di rete non siamo ancora pienamente come dire allineati con il nostro pensiero a questo dato di fatto no ci si possono fare mille esempi no a partire dal da quello che sta avvenendo adesso pensate per esempio alla rete dei trasporti ferroviari o alla rete dei trasporti aerei dove per esempio il rapporto tra distanza e prezzo non è più di natura lineare no? facendo percorsi più lunghi paghi di meno o facendo percorsi più lunghi arrivi prima è assurdo secondo una logica lineare secondo la logica della tavola è assurdo secondo la logica di rete no secondo la logica di rete non c'è un rapporto tra distanza e prezzo non c'è un discorso non c'è un rapporto lineare tra tra distanza e tempo potrebbe essere che con con più scali no io spenda molto di meno per andare da A a B passo da Z e spendo molto di meno quindi faccio molti molti chilometri in più e spendo molto 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 di meno perché è organizzato in rete e infatti e infatti se uno è propenso o costretto a misurarsi con questo problema dice ho pochi soldi e devo andare a a New York difficilmente poi trova un aiuto nell'agenzia la soluzione migliore è che si rivolga alla rete d'altronde poi l'agenzia se è onesta che cosa fa si serve lo stesso modo della rete però è molto meglio che te lo gestisci tu direttamente no perché come dire domini tutte le variabili no quindi sei in grado ogni volta di dire no questa soluzione la trovo non adeguata perché non voglio fermarmi troppe ore lì o cose di questo genere e la rete che funziona appunto secondo logica di rete è perfettamente in sintonia con il mio bisogno di trovare una soluzione ai miei problemi tra l'altro questo tipo di logica di rete si è affermata ha avuto la sua fondamentale certificazione con lo sviluppo della ferrovia nell'ottocento sia in Europa negli Stati Uniti il mito lo sappiamo del far west insomma quello è stato il momento di legittimazione però molto prima ha iniziato a svilupparsi con molto insomma relativamente prima ha iniziato a svilupparsi con la logica di containers cioè con lo trasferimento delle merci tramite acqua dove si è andato via via sviluppando l'idea che facendo percorsi più lunghi però toccando determinati porti dove il lavoro costava di meno era possibile risparmiare quindi costava molto di meno fare viaggi lunghi che non fare viaggi brevi cioè quindi si metteva in crisi l'idea del rapporto tra costo e lunghezza del tragitto ed è questo sistema che poi oggi governa il fenomeno più complessivo della globalizzazione per cui ti viene a costare di meno delegare la pittura di questa cosa qua alla Cina poi in qui che ne so provvedere al fissaggio e in un altro paese intervenire su un'altra dimensione comporre questi elementi ti viene a costare di meno che invece provvedere alla realizzazione in toto del prodotto qui soltanto in un solo luogo detto questo scusate mi auguro che siano cose abbastanza ovvie c'è il problema appunto ritorno appunto di partenza della inadeguatezza cioè viviamo già questo mondo ci siamo perfettamente dentro cioè nel momento in cui facciamo un biglietto aereo o anche soltanto un biglietto del treno ci siamo perfettamente dentro a questo mondo siamo perfettamente dentro a questo mondo anche quando utilizziamo internet anche per le cose più semplici il nostro modo di pensare non è ancora adeguato a questo a questo mondo o almeno non è sufficientemente integrato con questo con questo mondo per cui abbiamo una sorta di scessione dentro di noi c'è questa scessione tra un pensiero che è ancora moderno è una pratica che è invece oltre questa dimensione della modernità quindi c'è una sorta di conflitto che passa dentro di noi per cui poi stiamo pure che ne so dentro i social network mappiamo ecco il mondo in forma digitale però diciamo questa fedeltà alla rappresentazione bidimensionale del mondo e all'idea che le cose per poter essere conosciute per poter essere praticate hanno da essere statiche cioè devono essere statiche oppure io le devo rendere statiche no perché allora solo in quel modo le comprendo beh questo resiste resiste anche nei giovani questo modo di pensare di praticare io verifico e i colleghi anche della scuola continuano a verificare per esempio le reazioni di tanti giovani alcune le verifico direttamente all'università ma i colleghi della scuola addirittura le verificano nel ai livelli per esempio in scuola media addirittura la resistenza di tanti giovani che pure stanno ovviamente in rete a utilizzare per esempio dei testi digitali cioè ti dicono no no io voglio la carta cioè non sono i vecchi bacucchi che sostengono questo sono i ragazzi a volte anche di 12 anni 13 anni dicono no 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 professor non voglio il libro digitale voglio la carta e perché vuoi la carta? perché ho bisogno della carta per essere sicuro perché devo sottolineare allora gli dici ma guarda che si può benissimo sottolineare anche sul digitale anzi puoi farlo molto di più puoi ci mettere dentro tutti i colori possibili immaginabili puoi togliere le sottolineature mentre una volta che l'hai messa sulla carta non le puoi togliere più ah no 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 però mi sento sicuro no? e dov'è che si sente sicuro uno? e appunto si sente sicuro perché? è tutto un sistema che cioè perché lui sta in quel luogo che è chiamato scuola che è chiamata università no? dove viene certificata la dimensione statica del sapere no? e infatti poi faccio l'esame vado a fare l'esame lui si immagina sa che poi a un certo punto avrà l'esame nell'esame che cosa su che cosa avverterà l'esame no? la verifica su che cosa l'interrogazione il tema in classe il la maturità chiamatelo come volete qualunque forma di verifica su che cosa avviene avviene appunto sul presupposto di un qualche cosa che essendo statico può essere interiorizzato no? cioè c'è questo sapere che è statico in cui è stabilito che Roma è la capitale d'Italia no? è certificato questo sapere è scritto nel libro no? io faccio la verifica e vado a verificare se effettivamente lui sa che Roma è la capitale d'Italia no? e come dire è tutto il sistema che è così organizzato perché in questo momento io sto facendo una verifica mettiamo del sapere geografico che corrisponde a quel libro di geografia dove c'è scritto che Roma è la capitale d'Italia se poi casomai l'ora dopo si fa storia no? dove c'è scritto che è Firenze o Torino la capitale d'Italia perché lo è stata la capitale d'Italia in determinati momenti storici no? bene come dire i due saperi sono separati gli uni dagli altri perché quello è il sapere dalle nove alle dieci e l'altro è il sapere dalle dieci alle undici se si fa geografia Roma è la capitale d'Italia se si fa storia può essere Torino ma le due come dire i due saperi non hanno non hanno tra di loro collegamento no? perché sono certificazioni di due sistemi di potere no? diversi naturalmente allora che cosa capita capita che viene interiorizzato tramite questo sistema viene interiorizzata l'idea che il sapere sia costruito a fette no? per cui se uno mi dice è Torino la capitale d'Italia oppure è Milano non la capitale d'Italia posso dire no è sbagliato quindi il sapere in questo modo viene decontestualizzato l'unica contestualizzazione che è consentito che il sapere abbia è quella relativa all'ordine di tipo disciplinare no? cioè un bel sapere disciplinato come l'esercito no? cioè tutto ben ordinato no? per cui se lui mi dice Milano è la capitale d'Italia io posso dire no è sbagliato ma lui potrebbe obiettare ma guarda no è giusto perché in un determinato contesto per esempio no? negli anni 80 quando si parlava Milano da bere da tutte le parti era scritto che era Milano la capitale d'Italia in quel contesto tu potresti dire è giusto cioè Milano è la capitale d'Italia ma se uno incomincia a ragionare in questo modo perde il controllo di quel sistema cioè nel senso che mette in crisi quel sistema che invece certifica le divisioni di potere del sapere non so se è chiaro per cui il ragazzo nel momento seguito ti dice no io voglio la carta praticamente come dire certifica l'adesione a quel sistema dal suo punto di vista c'è pure ragione dice scusa è un sistema che mi costringe a determinate cose perché insomma non è naturale alzarsi alla mattina alle 7 per andare in quel luogo lì stare fissi per delle ore a fare delle pratiche che sono certamente molto meno gratificanti di quelle che uno può fare in rete al pomeriggio o in tutte le altre occasioni no? diciamo dato lo sforzo uno che cosa fa? si adatta a quel sistema e quindi diventa il primo come dire certificatore ecco del funzionamento di quel sistema e quindi è il primo che ti dirà non mi mettere di fronte ad una rappresentazione mobile del sapere come quella che ti viene dal digitale perché questo mi metterebbe in difficoltà cioè il primo che ti dice voglio la carta anche se poi utilizza lo schermo per tutte le sue attività quindi nel ragazzino di oggi nel giovane di oggi io vedo proprio la come dire la personificazione di questa forte contraddizione dell'essere in mezzo a due situazioni di un pensiero che è di tipo istituzionale che va in una determinata direzione è un mondo di vita che va in altra direzione da una parte la testualità dall'altra parte l'ipertestualità da una parte la linearità bidimensionale dall'altra la rete tridimensionale lì si pone al problema della mappa cioè come pensare praticare sviluppare costruire una pratica di mappatura che sia coerente con la dimensione tridimensionale del mondo con questa altra modalità di iscrizione e certificazione del mondo meno legata alla centralizzazione dei processi di centralizzazione del potere è più legata invece a un potere diffuso che è quello del gruppo del un potere dal basso ecco per usare l'esposizione a voi cari quindi un potere più socializzante o più socializzato sempre relativamente sempre relativamente e lì nasce un problema di conflitto ecco io credo che qui uno si ritrova a misurarsi con questo conflitto in quanto voi avete scelto di operare diciamo in questa in quest'altra dimensione quindi misurarvi col tema tridimensionale della mappa come strumento di socializzazione come strumento di certificazione sociale insomma delle pratiche territoriali delle pratiche d'uso del territorio di tutte le forme d'uso del territorio della vita e della vita vissuta però come dire c'è ancora tanto spazio da occupare tanto spazio da occupare proprio dal punto di vista culturale io credo e ci sono anche tanti 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 pregiudizi da superare il primo pregiudizio io credo che sia di natura politica ideologica cioè il fatto che se poi andiamo a vedere che cos'è la rete oggi la rete intesa internet quando ci sarà verifichiamo che la sua suo uso più massiccio suo uso più più diffuso è quello legato a comportamenti a pratiche che molti interpretano come consumo come è legata a dimensioni di sbago dimensioni che vengono intese come di superficie poco fondanti poco diciamo poco serie cioè più diciamo più più vicine ad una dimensione di consumo che non una dimensione di interpretazione di conoscenza seria ed è vero comunque che il mondo dei consumi è quello che meglio ha saputo sfruttare le opportunità della rete perché è quello che meglio si è reso conto di e più ha investito sulla possibilità che una logica di rete venisse a sostituirsi alle logiche lineali per cui basta vedere che cosa questo ha provocato anche in un settore in cui sembrava che le cose potessero non cambiare mai pensate al settore editoriale anche alla distribuzione del libro non sto neanche dicendo il libro digitale sto dicendo proprio il libro fisico cioè l'idea Amazon nel giro di pochissimo tempo ha sbaraccato tutto un sistema e ha costretto addirittura un paese come l'Italia a intervenire diciamo con misure di contenimento contrarie alla logica poi della 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 logica del mercato no? misure di contenimento del mercato per cui Amazon gli è stato gli è stato imposto di non l'impossibilità di fare determinati sconti perché le librerie a quel punto non riuscivano più a sopravvivere quindi introducendo un elemento di conflitto nel sistema no? perché l'editore avrebbe venduto di più però dato che l'editore è strettamente collegato l'editore è strettamente collegato al sistema della distribuzione e la distribuzione vuol dire la distribuzione nella rete capillare delle librerie allora l'editore ha dovuto come dire fare un'azione contraria ai suoi interessi o meglio che gli ha creato un conflitto perché da un lato ha dovuto rinunciare ad un superiore guadagno per mantenere in piedi un sistema che però è destinato rapidamente a saltare no? perché poi di fatto cosa cosa capita? capita che soprattutto in provincia cosa fa uno? ma è chiaro si compra tramite Amazon perché l'unica garanzia è di trovare il libro di trovarlo subito e di riceverlo nel giro di un giorno quando invece andando in libreria dici adesso lo ordino poi ripassi fra una settimana mi telefoni a quel punto direttamente ti rivolgi direttamente a Amazon e questo nel giro di pochissimo tempo ha trasformato vedete una logica di rete si è imposta rapidamente sulle logiche preesistenti e ha sbaraccato rapidamente un sistema adesso sta in piedi tanto perché ci si è messa una zeppa però di fatto è destinato a crollare questo sistema pensate poi al settore scolastico ancora peggio quindi lo si sta artificialmente tenendo in piedi però questa è la dimostrazione che in quel settore lì il processo è andato molto avanti quindi il settore appunto così merceologico insomma il settore commerciale ma invece se pensiamo al settore istituzionale a cominciare dalla scuola l'università i centri i centri di insegnamento i centri di formazione a volte anche le stesse famiglie beh il processo invece ha avuto tempi molto più rallentati o addirittura anche bloccati allora arriviamo al tema quindi c'è una scessione tra la mappa come rappresentazione mentale che ci viene imposta e proposta dentro la cultura della modernità e la mappa che pratichiamo invece della cultura della modernità avanzata post-modernità chiamatela come volete insomma del mondo come si è venuto a configurare dall'ottocento in poi perché così è quindi il mondo della rete che poi trova una sanzione nella rete intesa come internet e la rete digitale la rete telematica queste due realtà stanno contemporaneamente dentro di noi una proiettandosi sull'altra generalmente quella moderna proiettandosi sulla post-moderna cioè per esempio parlo sempre faccio esempi sempre della scuola perché è il settore che io pratico ma dove è più facile vedere determinati meccasini soprattutto determinate deformazioni gli insegnanti italiani che risaputamente sono contrari alla tecnologia digitale perché l'istituzione è contraria alla diffusione della tecnologia digitale perché gli editori sono contrari e ci sono state misure di contenimento anche piuttosto pesanti ultimamente c'è qualche piccola apertura però fondamentalmente anche a livello europeo noi siamo i più resti a metterci in gioco su questo terreno i paesi che pure hanno la nostra stessa matrice sono più evoluti la Spagna e la Francia sono più evoluti sul piano della diffusione della penetrazione digitale nell'ambito del sistema scolastico di quanto non è l'Italia anche del sistema universitario bene oddio ho perso il controllo ho fatto un inciso troppo lungo e non riesco più a ricordare da dove veniva presenti ecco se questa questo nel sistema nel sistema scolastico vige ancora la il primo principio il primo universo filosofico ecco non saprei come chiamarlo cioè l'idea di una rappresentazione statica della realtà e dicevo appunto ecco che gli insegnanti italiani che sono diciamo tra i più resti a mettersi in gioco sul terreno del digitale però hanno apprezzato hanno come dire molto coltivato il tema delle mappe concettuali cioè in Italia diversamente da altri paesi tra i temi che sono piaciuti agli insegnanti e su cui sono fatte tante iniziative su cui sono proprio più attivi è proprio quello delle mappe concettuali le mappe concettuali però sono la come dire la 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 più assoluta certificazione dell'idea statica della rappresentazione del sapere no? perché proprio nel momento stesso in cui mi faccio un bel grafo così me lo rappresento in quel modo lì vuol dire le cose sono così no? e quelle sono immodificabili perché i concetti sono quelli fissateli bene in testa questi sono i concetti questi sono i rapporti tra i concetti e dice ah professor ma se io sposto questo concetto e lo metto di là ah no 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 così non va bene no? perché così è così deve stare no? e poi invece proprio la mappa concettuale è una contraddizione perché i concetti come dire sono mobili nel senso che acquistano colori o o dimensioni diverse a seconda della rete in cui li colloco no? l'esempio che ho fatto prima Roma capitale Milano capitale Torino capitale diciamo sono significativi di una dimensione mobile del sapere cioè la stessa informazione può assumere una dimensione di verità o di falsità a seconda che io la sposti da un contesto ad un altro contesto e quindi nel momento stesso in cui io mappo no? quel sapere e lo immobilizzo come dire gli faccio perdere tutto il suo ossigeno l'ossigeno gli viene dal fatto che quel concetto lì è collegato ad altri concetti e che se io come dire muovo la rete in un determinato modo quel concetto lì si troverà collegato ad altri concetti no? come quando per andare a New York in aereo passo da da Oslo no? oppure tante volte dà fastidio cioè devi andare in Africa e vai a nord per andare in Africa vai a nord no? oppure adesso la questione all'Italia no? l'interesse degli armi perché sono tanti interessati all'Italia no? semplicemente vogliono uno snodo per gli Stati Uniti no? perché Dubai è uno snodo per l'Oriente Fiumicino diventerà lo snodo Oriente Occidente naturalmente questo comporterà che a loro non gliene frega assolutamente nulla che poi da Fiumicino si vada a Venezia no? e perché questo fa parte della logica come dire della logica di rete no? probabilmente per andare a Venezia un giorno dovrai andare a perdire potresti andare a Francoforte ecco per andare a Venezia ti costerà pochissimo ti irà un po' più di tempo ma ti costerà pochissimo perché si afferma questo tipo di si afferma questo tipo di logica e va bene nel frattempo cosa hai? avrai il treno infatti infatti per esempio per i trasporti per i trasporti nazionali si è affermato il treno quindi insomma è un processo in movimento mi pare abbastanza evidente ed è significativo proprio che avvenga nei dove avviene nella rete dei trasporti cioè noi stiamo vivendo proprio a due secoli di distanza dall'affermazione di questo principio lo stiamo vivendo direttamente noi no? scusate in pochissimo tempo il rapporto almeno per quanto riguarda i trasporti nazionali il rapporto tra aereo e treno si è profondamente modificato cioè per andare a Milano da Roma nessuno prende più l'aereo ed era la linea più più no? più più remunerativa per più remunerativa dell'Alitalia fino a qualche fino a qualche tempo fa non c'è più neanche nessun low cost Roma-Milano perché praticamente il treno con tre ore e adesso diventeranno due ore e mezza è competitivo è caro certamente ma è comunque meno caro dell'aereo insomma e in ogni caso è più veloce ecco questo è uno dei tantissimi esempi che si possono fare allora dicevo nel arriviamo finalmente in questo spazio diciamo della 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 rete la mappa assume un'altra dimensione ed è la dimensione social ed è la dimensione della mobilità ed è la dimensione della dinamica cioè si passa dalla mappa come certificazione statica e staticitazione patuizione statuizione come si può dire di un di un dato di conoscenza alla mappa invece come misura provvisoria di un processo come come iscrizione provvisoria diciamo così dell'equilibrio di determinate situazioni del vissuto della pratica della conoscenza delle attività eccetera eccetera dove il potere di chi mappa non è più centralizzato no? ma è distribuito distribuito cioè l'utente è anche autore l'utente della mappa è produttore di mappa o può essere produttore di mappa o comunque il fatto stesso di sapere di poterne essere autore cioè di collaborare alla costruzione della mappa rende il suo uso della mappa più dinamico cioè il tuo l'uso che ciascuno di noi fa della mappa Google per andare da qui a X è vissuto in modo diverso di come è vissuto l'uso della mappa su carta no? anche il fatto che ci fediamo di meno fidiamo di meno no? che è diffusa l'idea che dei navigatori non ti devi non ti devi fidare fino in fondo perché continuamente leggiamo di quello che è andato giù nel diruppo no? perché seguiva il navigatore e non guardava più il territorio perché nel frattempo il navigatore non era stato aggiornato e non era stato detto che quella strada era senza anzi con lo sbocco direttamente del diruppo bene sono tutti modi no? che anche se in chiave negativa però ci danno l'idea di una rappresentazione mobile no? non ci chiediamo mai se o ci chiediamo molto di meno se la mappa che utilizziamo quella su carta è aggiornata no? mentre invece siamo abituati a pretendere che quella digitale sia aggiornata perché nell'uso della mappa cartacea c'è una forte presenza interpretativa dell'utente no? mentre in questa fase almeno molti utenti che utilizzano il navigatore si affidano totalmente al navigatore no? che è la dimostrazione del conflitto che stiamo vivendo tutti noi no? dice ma se non ti fidi di fatto perché poi chiedi della mappa su carta perché poi ti devi fidare della mappa digitale tanto più che nella mappa digitale tu hai un ruolo perché nel momento stesso in cui tu vai a finire sul diruppo stai dando un'informazione stai contribuendo alla costruzione dell'aggiornamento della mappa no? mentre la tua interpretazione della mappa statica della su carta quando chiedi ma dove deve andare effettivamente perché la mappa mi dice così ma io non riesco a capire come fare per arrivare là poi soprattutto nell'area vostra dove quando uno entra dentro un paese non riesce più a uscirne no? quindi ognuno di noi ha esperienze lunghissime sul fatto che non che nel Salento è pressoché impossibile no? muoversi se uno non conosce perfettamente il territorio ma poi credo che anche capita continuamente quando entra in un paese che trova nuovi sensi unici e quindi uno si perde come? è proprio il Salento è nel Salento è nel Salento sì sì certo è proprio restio qualunque soluzione digitale va bene ci vorrebbero mappe aggiornate minuto per minuto ecco bene questi esempi dimostrano insomma che dentro di noi c'è questo conflitto però ecco uno dovrebbe allora ricordate all'inizio parlavo di carenza di tipo concettuale ecco allora riuscire a capire come colmare anche questa carenza di tipo concettuale cioè vedere che in una dimensione social quindi in una dimensione dove la mappa è una costruzione collettiva cioè il mio dubbio e i miei errori sono comunque dentro il sistema sono comunque delle informazioni che il sistema acquisisce cioè il mio modo di essere attivo dentro la mappa è anche involontario per cui sarebbe giusto che il mio modo di concettualizzare questo tenesse conto del fatto comunque che io do un'informazione cioè in rete noi qualunque cosa facciamo e ormai siamo tutti in rete forniamo informazioni anche quando non lo facciamo esplicitamente allora il mio navigare dentro il col navigatore è comunque un fornire informazioni poi naturalmente questa informazione se voglio la posso anche dare esplicitamente però in ogni caso è un'informazione che viene fornita perché come dire come sono seguito diciamo perché ho fatto un contratto diciamo di assistenza contro i furti sono seguito perché il sistema di mappatura ha bisogno dei miei dati per potersi tenere costantemente aggiornato quindi per un verso questo è un è un è una prigione per un altro verso è un elemento di liberazione e questo è un altro dei temi interessanti da tenere da tenere presenti cioè man mano che questa cosa si sviluppa diciamo siamo sempre più individui pubblici siamo sempre più imprigionati condannati ad essere pubblici c'è sempre meno libertà per un verso ce n'è sempre di più per un'altra c'è la libertà di poter utilizzare i dati cioè tu sei imprigionata perché nel momento stesso in cui vai in macchina sei seguita la satellitare che dà tutti gli elementi io sono liberato diciamo così perché posso fruire dei dati che che tu fornisci no? cioè per cui anche noi viviamo un po' questo conflitto diciamo in modo squilibrato no? per un verso ah vedi però c'è stato il dilitto tramite i dati del cellulare ricostruiamo e siamo in grado oggi di dire ah vedi c'è stato quello perché però vabbè cose che leggiamo quotidianamente quindi in quel momento diciamo vedi che allora serve per un altro verso però abbiamo tutto il discorso ah no ah no io voglio essere libero io voglio essere voglio mantenere il mio privato e proprio in questi giorni si sta sviluppando a livello proprio mondiale la questione appunto del conflitto tra pubblico e privato relativamente ai dati Google cioè al fatto che per la prima volta Google ha accettato l'idea che uno possa come dire possa escludere dalla dalla mappatura perché di fatto è una mappatura possa liberarsi come? possa liberarsi possa liberarsi è un bel è un bel tema è proprio vedete è la dimostrazione del fatto che siamo impreparati alla nuova concettualizzazione cioè abbiamo ancora concetti che sono di tipo dicotomico pubblico e privato nel momento in cui io tolgo i miei dati i miei dati Google dal pubblico sono esclusi dalla realtà cioè io praticamente sto delegando cioè questo è il problema io sto delegando ad un privato Google la scelta di togliermi dalla realtà dato che quella è la realtà è la realtà cioè nel senso che è una mappatura della realtà che si sostituisce alla realtà ognuno di noi lo fa va indietro cioè nel per sapere cosa ho fatto una settimana scorsa quando mi dice ma che stai facendo a quell'ora io vado 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 in Gmail e vedo le mie i messaggi che ho ricevuto che ho mandato no? cioè nel senso oppure vado in Facebook cioè come dire lì ho una cronologia ecco di quello cioè ho il diario ognuno di noi nella rete ha il suo diario involontario no? nel momento in cui dice no io lo voglio togliere è come se tu chiedessi riconoscessi che Google in quanto sistema di mappatura del reale quando accetta che i tuoi dati vengano tolti accetta che la realtà una determinata fetta di realtà possa non esserci più in qualche modo come quando uno è apolide che in qualche modo è una libertà civile per certi diversi e di fatto è una perdita di diritti cioè io accetto il via di non essere cittadino di nessuno stato sì così quando ci sono interventi è meglio perché altrimenti non si capisce dicevo appunto come l'essere apolide quindi in qualche modo di rinunciare se è una scelta o se può essere una scelta voluta oppure il dovere di rinunciare se è una scelta dettata da una serie di condizioni e quindi io rinuncio ad essere cittadino di un qualsiasi stato però contemporaneamente rinuncio anche ai diritti che mi deriverebbero dall'essere cittadino di un qualsiasi stato quindi come dire è una lama cioè un filo sottile di acquisizione di libertà in cambio di cessione di diritti e probabilmente la stessa cioè gli stessi rapporti i stessi schemi esistono anche in questa faccenda recente di Google in qualche modo acquisisco una non so a politici di città o comunque diventa una apolide della rite però in questo caso la apolide della realtà eh sì che è una cosa anche un po' più pesante forse in una contemporaneità ancora più pesante e contemporaneamente quindi prendo questa libertà di non essere di nessuna parte però ne perdo anche i diritti fino anche il diritto alla memoria esatto in termini rispetto al diario di cui cioè è come se dicessi voglio togliermi fuori dalla storia ma è ancora più grave è che sei venuto a creare un sistema tale per cui deleghi a Google decidere che cosa è storia e cosa è no cioè per cui viene presentato come una grande una grande conquista il fatto che tu puoi chiedere a Google di toglierti perché dici guarda io non voglio che si sappiano determinate cose ho ammazzato mia zia ho pagato no ho pagato no ho pagato ho pagato quello che dovevo pagare no ma cioè la logica è quella no ho ammazzato mia zia o mia moglie quello che è insomma ho pagato quello che dovevo pagare ma perché mi devo portare dietro questa cosa no? quindi chiedo che questi i dati relativi al mio pregresso non siano non siano pubblici Google cosa ha risposto? Dico sì dice se noi riconosciamo che questi dati la sottrazione questi dati non comporta degli squilibri dal punto di vista dei diritti collettivi di sapere le cose no io lo tolgo allora è chiaro che questo allora vuol dire che deleghiamo a Google stabilire che cosa è pubblico e cosa non è pubblico poi lo potrà fare puro bene perché certamente non potrà togliere i dati relativi al fatto che io sono stato condannato quello non lo può togliere no? ma dirà guarda se poi c'è avuto una relazione con la sorella di tua moglie dopo che vabbè questo lo possiamo togliere no? perché quello non è non implica un problema no la traccia istituzionale diciamo eh sì ma però che ne so che poi casomai un domani sia necessario poi a ricostruire anche se io non sono un serial killer prima la moglie poi la sorella cioè voglio dire anche 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 si mette in un ginepraio è così intanto si sostituisce a un ente pubblico quindi proprio ieri c'è stato un intervento adesso poi vi dirò a caso mai riferimenti sì in realtà tra parentesi dobbiamo aver risolto tutto quanto quindi abbiamo connessione quindi se vogliamo possiamo anche chiudere un attimo questo ragionamento e poi prenderci qualche minuto in modo che noi attiviamo tutto quanto io per me è d'accordissimo così voi siete d'accordo veramente no no lo posso concludere facendolo vedere perché proprio ieri c'è stato un intervento pubblico e un post perfetto benissimo benissimo